Direttore, grazie per essere con noi oggi. Tutti abbiamo apprezzato moltissimo e ammirato come il mondo della scuola, in particolare nel Veneto, abbia reagito in modo assolutamente efficace all'emergenza dell'ultimo anno e mezzo. Noi imprese stiamo vedendo grandi cambiamenti, accelerati anche dalla situazione di emergenza, come la digitalizzazione, la sostenibilità e in particolare in questo momento il grande fabbisogno di competenze a fronte di una forte ripresa economica. Come vede le sfide del mondo della scuola Veneto per il mondo della scuola e per ragazze e ragazzi? La pandemia è stata un forte acceleratore proprio di tutti questi trend di cambiamento, questi mega trend che riguardano e investono il mondo del lavoro e il mondo della formazione. Il World Economic Forum ha recentemente proprio detto come abbiamo davanti cinque anni nei quali dovremo proprio trasformare molti dei lavori tradizionali e avremo anche molti lavori nuovi. È chiaro che il mondo della formazione e dell'istruzione ha tempi per sua natura più lunghi, ma di fronte a queste sfide, ovviamente soprattutto sul fronte dell'orientamento, dobbiamo davvero dare una spinta decisiva in questi anni. È proprio così, abbiamo di fronte delle sfide epocali, la transizione energetica, il cambiamento climatico, il calo demografico. Noi aziende ovviamente siamo assolutamente a disposizione del mondo della scuola per poter dare il nostro contributo nell'aiutare nell'orientamento. Per esempio, una possibilità con cui si può affrontare questi cambiamenti può essere quella nell'ambito dell'orientamento di sottolineare la disponibilità di percorsi formativi, tecnici, professionali e scientifici. Assolutamente sì. Ovviamente l'orientamento verso questi percorsi comincia direi sicuramente già dalla cosiddetta scuola media, la chiamiamo ancora così. È lì che, dal mio punto di vista, bisogna far emergere proprio i talenti degli studenti, le inclinazioni che le persone possono avere più verso il mondo tecnico, scientifico o più verso il mondo umanistico. Adesso è una schematizzazione molto ampia. Perché poi già le scelte della scuola superiore ti indirizzano verso un settore di studi e di lavoro piuttosto che un altro. Quindi lavorare sull'orientamento è importante. Bisogna farlo in termini sia quantitativi, dentro le scuole di tempo dedicato, e sia in termini anche, credo, di qualità degli interventi, di profondità degli interventi, che devono incrociare due aspetti. Quello delle, appunto, delle inclinazioni e delle aspirazioni individuali, che sono sempre importanti, perché nel lavoro bisogna essere comunque soddisfatti, felici, vorrei dire, di quello che si fa, e sia però, ovviamente, le tendenze del mercato che ci devono comunque orientare. Certo, per esempio, una cosa che sarebbe molto bella sarebbe anche incoraggiare di più le ragazze a scegliere percorsi scientifici, perché sappiamo che sono ancora poche relativamente le ragazze che scelgono percorsi tecnici e scientifici, se avessimo più ragazze, oltre che essere ovviamente un grande beneficio dal punto di vista sociale, ci sarebbe anche più disponibilità di talenti nel mondo del lavoro. Sì, questo è verissimo. Diciamo, le tendenze dell'iscrizione alla scuola superiore confermano, come dire, quasi una scelta di genere che non è positiva della scuola superiore. Il liceo classico, molto femminilizzato, liceo scientifico, diciamo, metà e metà, è forse il percorso di studi con maggiore equilibrio tra maschi e femmine, l'istruzione tecnica e professionale, fortemente invece ad appannaggio, diciamo, dei maschi. Ecco, dovremo proprio lavorare anche su questi aspetti per far sì che tutti i percorsi di studio vedano, diciamo, una presenza più omogenea anche di studentesse. Il divario poi si acuisce ulteriormente quando parliamo di scelte universitarie. Se i percorsi di carattere, diciamo, tecnico, soprattutto ingegneria, sta comunque vedendo un incremento della presenza femminile. Invece ci sono facoltà ancora, quelle delle scienze dure come fisica, matematica, ma soprattutto fisica che sono magari più appannaggio ancora maschile, vedono una scarsa presenza femminile. Siamo assolutamente d'accordo su questo, infatti anche noi abbiamo intrapreso una serie di iniziative per sensibilizzare anche le ragazze sull'opportunità, ovviamente se ne hanno le inclinazioni, di scegliere l'opportunità di percorsi scientifici. E peraltro, come accennava anche lei, questa netta separazione tra percorsi scientifici e umanistici sta un po' sfumando, perché sempre di più ci si rende conto che le competenze tecniche sono sì molto importanti, ma devono essere accoppiate con competenze cosiddette trasversali, quindi capacità di risolvere problemi interpersonali e quindi anche competenze umanistiche, per cui probabilmente è anche importante, diciamo, andare verso una commistione tra saperi umanistici e saperi scientifici, anche per mettere i ragazzi e le ragazze in condizione di interpretare la realtà sempre più complessa e in rapido cambiamento che stiamo vedendo. Sì, infatti è importante che anche nell'istruzione tecnica e professionale non venga privilegiato solo l'aspetto, diciamo, puramente tecnico dei percorsi, che è comunque importantissimo, ovviamente inderogabile, e deve andare sempre più verso aspetti di integrazione col mondo del lavoro, sia come docenza, sia come esperienze degli studenti. Ma è importante anche in questi percorsi, soprattutto vorrei dire una materia, l'italiano. Un tecnico bravo è anche un tecnico che si fa capire, si fa capire sia nel linguaggio tecnico che i suoi colleghi, è in grado di scrivere in modo corretto una relazione sintetico, va a bomba sui punti chiave ed è in grado anche di farsi capire magari dal profano. Quindi la formazione deve essere veramente completa della persona e non può trascurare comunque anche una formazione di carattere, chiamiamolo, umanistico, insomma. È proprio così, grazie. Ecco, un altro tema di cui si sta parlando molto negli ultimi mesi, di cui ha parlato anche il Presidente del Consiglio, è quello degli istituti tecnici superiori, che sono una scelta post-diploma, diciamo, alternativa all'università. In Italia gli iscritti sono ancora pochi, sono circa 20 mila, a fronte di quasi un milione della Germania. In Germania oltre il 50% dei diplomati sceglie un percorso di quel tipo, mentre in Italia appunto sono ancora pochissimi. Forse anche da questo punto di vista l'orientamento potrebbe creare conoscenza sul fatto che esiste questa possibilità di scelta, che dà poi dei tassi di occupazione e una soddisfazione sul mercato del lavoro altissima. Per quanto riguarda l'orientamento, diciamo, dopo la scuola superiore, bisogna lavorare tantissimo su questo. Quindi abbiamo due facce dell'orientamento. Uno, dalla scuola media alle superiori, dove bisogna, come dire, favorire l'ingresso anche e tenere fortemente il livello anche della nostra istruzione tecnica e professionale. Ricordiamo che il Veneto è comunque la regione che scolasticamente, diciamo, fatto cento il numero degli studenti che vanno alle superiori, ha la maggiore percentuale di ragazzi che si iscrivono ai percorsi tecnici. Quindi in Veneto il sistema tiene abbastanza. Dovrebbe essere ulteriormente incrementato, diciamo, rispetto a una licealizzazione spinta che c'è in altri territori. Per quanto riguarda invece l'orientamento verso il terziario, diciamo così, quindi dopo la scuola superiore, dobbiamo spingere molto sull'istruzione tecnica, sugli ITS. Nella nostra regione non abbiamo un problema di qualità degli ITS, perché da altre parti, diciamo, forse bisogna anche lavorare molto sui percorsi e sulla qualità. I nostri ITS, come è noto, nel ranking, chiamiamolo così, che redige l'indire, quindi nel monitoraggio periodico che fa, sono sempre tra i primi come nei vari indicatori. Prima di tutto quello dell'occupabilità, ma anche gli altri della qualità formativa. Ma anche noi abbiamo un problema, che è quello dei numeri. Cioè, per una regione come il Veneto, fortemente industrializzata, ci dovrebbe essere un numero maggiore di ragazzi che accedono ed escono da questi percorsi. Proprio stamattina leggevo che comunque l'ITS meccatronico di Vicenza ha avuto un boom di iscrizioni. Questo mi ha allargato il cuore, perché oltre ad essere un percorso di grande qualità, che è sempre nei primi dieci del monitoraggio, appunto, dell'indire, riesce adesso a fare anche massa critica, quindi ad avere parecchi iscritti. Sì, infatti l'ITS meccatronico, che è un'eccellenza a livello nazionale che abbiamo qui nel Veneto, ha oltre 20 corsi su tematiche importantissime, come l'industria 4.0, come le tematiche digitali, la cyber security, che sono importantissime sul mercato del lavoro, ma anche proprio per la nostra comunità, per la nostra società, per seguire l'evoluzione delle tendenze in atto. Gli ITS hanno una forte partnership con le aziende e questo è uno dei loro punti di forza, quindi anche da questo punto di vista noi siamo assolutamente a disposizione per collaborare, per, diciamo, creare sensibilizzazione sul fatto che gli ITS ci sono e sono una scelta validissima da questo punto di vista. Sì, ma il modello vincente dell'ITS è proprio questo, cioè grossa flessibilità e possibilità di modellare, costruire i percorsi sulle esigenze delle aziende e del territorio, da un lato, e, diciamo, nello stesso tempo leggerezza della struttura organizzativa e amministrativa. Questi sono gli aspetti vincenti. Il progetto che stiamo seguendo, Cosa farai da grande, è proprio rivolto alle ragazze e ragazzi di seconda e terza media e alle loro famiglie per dare una panoramica dell'offerta formativa, di quello che offre il mondo del lavoro e, come diceva giustamente lei, anche è fondamentale tenere in considerazione le inclinazioni di ciascuno nella scelta, poi, delle scuole superiori. Abbiamo centinaia di famiglie partecipanti e quindi grazie per essere qui con noi in questo progetto. Grazie a voi. Se mi posso permettere, diciamo, di dare una sorta di consiglio alle famiglie e ai genitori, è quello di affrontare il momento dell'orientamento come una scelta delicata, cardine, molto importante per i propri figli, quindi da non affrontare con leggerezza, ma nello stesso tempo è una scelta che deve guardare non solo alle inclinazioni vere dei propri figli, che non deve fare gerarchie tra i saperi, tra le conoscenze, tra i percorsi di studio. Bisogna diventare in questo un po' più vicini al modello statunitense. Negli Stati Uniti tutti i percorsi sono equivalenti, tutti i lavori sono dignitosi. Ecco, forse un po' dobbiamo, o questo aspetto positivo, prenderlo anche noi e soprattutto pensare che nel mondo del lavoro, io ho usato prima la parola felicità, la voglio ribadire, le persone devono fare qualcosa che effettivamente realizza la persona, appaga la persona, quindi mettiamo un po' via le nostre aspirazioni proiettate sui figli, cerchiamo di contenerle e invece diamo spazio alle aspirazioni e alle inclinazioni vere, agli interessi veri dei nostri ragazzi, ovviamente con un'attenzione concreta anche a quello che è poi il mondo del lavoro. Questo mi sento di dire. Non potrei essere più d'accordo. Grazie, grazie a voi.